care mamme cari papà ben ritrovati in questo video vi presento un'attività da svolgere con il corpo insieme ai vostri bambini che ci aiuta però a recuperare la calma a rilassarci ma anche ci aiuta nell'allungamento muscolare e quindi nel rilassamento corporeo questa attività infatti la possiamo svolgere in qualsiasi momento della giornata oppure prima di andare a nanna si svolge stando seduti ho preparato sia una fila strocca da mimare con il corpo e poi dei movimenti abbinati a una famosa nanna nanna un'attività quindi che va anche a stimolare il senso ritmico dei bambini dove si unisce movimento e musica come sempre una buona visione e un buon divertimento a presto una nuvoletta nel cielo volava spinta dal vento si dondolava le piaceva assai la luce e di notte chiamava a grande voce le amiche stelle per vederle brillare e intorno a loro divertirsi a ballare anche la luna accompagnava la festa lanciando coriandoli dalla sua finestra a Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.